Nel 2012 ogni giorno sulle strade italiane si sono verificati 512 incidenti che comportano la morte di 10 persone e il ferimento di altre 723. Questi dati forniti dal rapporto annuale AG-ISTAT sugli incidenti stradali in Italia. A denunciarlo il Codacons che evidenzia come nonostante la crisi e il conseguente crollo dei flussi di traffici non si sia ancora raggiunto il traguardo della riduzione del 50% dei morti fissati dalla Unione Europea nel 2001. L'Italia infatti sebbene il crollo dei veicoli circolanti abbia determinato una diminuzione dei numeri di incidenti feriti e morti rispetto al 2011 si ferma ad un meno 48,5% mentre in Europa il numero di morti per milioni di abitanti scende dal 60,7% del 2011 e il 55% del 2012. L'Italia passa invece dal 63,7% ad un misero 60,1%. Il Codacons inoltre fa notare che con la modifica dell'articolo 208 del Codice della Strada sale sia la quota dei conducenti di biciclette morti in incidenti stradali con un più 2,5% tra il 2012 e il 2011 sia il numero di biciclette coinvolti in incidenti stradali collesione a persone con un più 2,6% rispetto al 2011. Pertanto l'Associazione dei consumatori si rivolge al Governo nazionale affinché intervenga con urgenza con un decreto legge in tema di sicurezza stradale. Rispetto all'articolo 208 del Codice della Strada ad esempio il Governo deve stabilire che il 100% dei proventi e delle multe va destinato al rafforzamento della sicurezza stradale. Inoltre va eliminato il COM che consente con i proventi e delle multe di fare assunzioni stagionali o acquistare automezzi ripristinata la quota minima da destinare agli utenti deboli della strada ed introdotto un taglio del 3% trasferimenti statali per i comuni, la stragrande maggioranza che non rispettano l'articolo 208.